Mi dispiace solamente dall'orgoglio che sta accendo Se mortifica ogni giorno, va la mano che fa tiente Che non vede la coscienza, che non vede il rispetto Come fa la vita su ogni buona sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta Buona sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta Buona sera, rindoletta Amici telespettatori, cittadini di Napoli Siamo in diretta, live Ma in contemporanea stiamo registrando su Campania Felix Un video importantissimo Che sarà trasmesso nella giornata di venerdì E di sabato e domenica E che riguarda un'iniziativa che i pensionati d'Europa Hanno inteso prendere a difesa dei cittadini della zona alta Di Napoli, della nostra città Che sono permanentemente e generalmente penalizzati Da un dispositivo di traffico in cappella dei cangiani Che è un punto nevralgico Uno nodo importante del traffico Da e proveniente dall'entroterra napoletano Dalla zona ospedaliera E dalla tangenziale di Napoli di Via Iannelli Nel video che sarà trasmesso da Campania Felix Da questa emittente Ci sono anche le immagini che dimostrano Quanto noi diremo da qui a poco E di che cosa parliamo? Parliamo di lavori che sono stati realizzati A cura del comune di Napoli E che riguardavano il sottosuolo E che riguardavano la raccolta delle acque Nelle fogne, nell'impianto fognario di Cappella Cangiani Che molto spesso ha creato dei problemi E dopo questi lavori che sono durati un bel po' Direi 7, 8, 10 mesi Adesso ripristinando il sistema di traffico Si pensava che tutto tornasse come prima Con i controlli necessari E con l'attivazione di situazioni Che dovevano essere definitivamente La soluzione del problema traffico In Cappella dei Cangiani Invece siamo rimasti Che, e questo le immagini ve lo dimostrano Siamo rimasti che le telecamere Che da una vita sono in piazza Cappella dei Cangiani Sono rimaste ferme Non funzionanti E quindi nessun controllo da questo punto di vista Il sistema delicato di traffico Che proviene dalla zona ospedaliera E che si concentra su Cappella dei Cangiani In tutte le ore Oppure che dai Camaldoli Dal Monaldi scende E che si concentra su via Leonardo Bianchi A tutte le ore E con la necessità di svincolarsi Su via Iannelli Oppure su via Mariano Semmola Per andare nella zona del Vomero Ecco, il traffico lì Ha dei problemi proprio immediati Perché? Manca il controllo della polizia urbana Permanente Soltanto in alcune ore Poi è stata creata una rotonda Evidentemente i napoletani Non sono abituati alla circolazione con la rotonda Non sono abituati a rispettare Ecco, le precedenze Non sono abituati a svincolarsi celermente E poi si mette Evidentemente gli uffici Si mettono gli uffici tecnici comunali Che nel momento in cui creano il nuovo sistema di traffico Non si rendono conto Che su via Sant'Ignazio di Leola Che è un altro flusso di traffico Proveniente dalla zona dei Camaldoli E quindi dall'entroterra napoletano Oppure che deve andare verso le residenze Che sono numerose Sono importanti residenze Parliamo di migliaia e migliaia di famiglie Residenti nella zona di Sant'Ignazio di Leola Dove c'è anche l'istituto religioso Dove ci sono delle aziende produttive Ecco, che hanno bisogno di arrivarci presto Invece con il nuovo sistema di traffico E si è imposto praticamente Un giro che riguarda tutto un percorso Che è via Leonardo Bianchi Che è via Orsolone dei Guantai Cioè davanti al Monalde Al salire su Per poi ritornare a Sant'Ignazio di Leola È paurosa una cosa del genere Cioè è impossibile Che possa mantenersi in essere Un sistema di traffico organizzato in questa maniera Perché? Perché poi coloro i quali devono andare in Sant'Ignazio di Leola Con la prospettiva di farsi un giro enorme Che cosa fanno? Arrivato alla fine dei divisori di traffico Che hanno messo di plastica Provvisoriamente Che dividono il flusso di traffico Che va verso il Monaldi E che viene dal Monaldi Ecco, si interrompe praticamente Questi strumenti che dividono la carreggiata Finiscono dopo una cinquantina di metri Alla fine di questi strumenti Che cosa succede? Che chi è diretto nella zona di Sant'Ignazio di Leola Ecco, furbescamente Effettua una giravolta Un'inversione di marcia ad U Quindi bloccando il traffico E questo è un nuovo Ecco, fastidio che viene creato A questi enormi flussi di traffico Che sono nella giornata permanente E allora noi Partito Pensionati d'Europa Che cosa abbiamo pensato di fare? A difesa delle popolazioni Ma a difesa anche degli automobilisti Perché è snervante Dover fare delle lunghe ore Talvolta pure mezz'ora Per attraversare Piazza Cappella dei Cangiani Abbiamo pensato di fare un'iniziativa Che si svolgerà domenica mattina Dalle 10 a mezzogiorno e mezza Cioè noi incontreremo i cittadini Di queste zone Ecco, illustrando loro Quali potrebbero essere le soluzioni A questo grosso problema Perché tenuto conto dello status quo Delle strade che ci sono Delle immissioni su Cappella dei Cangiani E così via E noi prospettiamo Delle soluzioni che sono logiche Che sono quelle dell'uomo della strada Che osserva, che vede E che dice Ma perché non si fa così? E allora vogliamo confrontare Queste nostre indicazioni Con la popolazione della zona Perché non vogliamo fare niente di imposto E visto che Ecco, un dialogo è sempre importante E in queste zone In questa zona È possibile ancora un dialogo A livello di libero E di libertà assoluta E di confronto sereno Ecco, allora noi abbiamo pensato Di farlo domenica mattina Domenica mattina Noi ci fermeremo dinanzi Sul marciapiede Che è il marciapiede Di fronte alla parrocchia Di Cappella di Santa Maria Di Costantinopoli Di Cappella dei Cangiani Ecco, e lì incontreremo La cittadinanza Vedrete le bandiere Del partito pensionati Ci fermeremo lì Con un banchetto E magari raccoglieremo Anche delle firme Per dire All'amministrazione comunale Tu non puoi impedire Che dopo aver girato La rotonda Che gli abitanti Di via San Dignazio Di Loroola Non possano Ecco Immettersi Sulla San Dignazio Di Loroola In maniera immediata E quindi in un attimo Arrivare nelle loro zone Sono queste le situazioni Che meritano attenzione Ma perché tutto questo funziona C'è una necessità assoluta Qual è questa necessità? E' quella di tenere conto Di una serie di stradine Che in questa zona ci sono Che sono state utilizzate Per un certo periodo di tempo Che però Ecco Perché è faticoso Fare delle cose nuove E' faticoso Ecco Progettare delle cose nuove Funzionali Ecco E che E' molto più semplice Fare le cose Che si hanno a portata di mano Noi diciamo Alla E siamo In 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 un contesto Che è quella Della quinta municipalità E dell'ottava municipalità Io dico Mettetevi insieme Voi siete Trenta Consiglieri Della quinta municipalità Trenta consiglieri Della ottava municipalità Due presidenti Uno Della ottava E l'altro Della quinta In più avete Un ufficio tecnico Nell'ottava municipalità Un ufficio tecnico Nella quinta municipalità Avete un gruppo Di vigili urbani Nella Municipalità numero 8 E nella Municipalità numero 5 Trovate un tavolo Trovate un tavolo Dove Tecnicamente Voi dovete Avere presente Innanzitutto Gli interessi Della popolazione Mettete in condizione Che la popolazione Non debba essere Considerata Furba Cioè fare L'inversione Di marcia In una strada Importante Come Leonardo Do bianchi Per ovviare Ad una marcia Lunghissima Per arrivare A casa propria Ma non solo Per Costoro Ma per tutti Coloro i quali Erano abituati A salire San Dignazzo Di Lerola Per arrivare Prima nella zona Di Marano Nell'entroterra Napoletana Avete il dovere Di farlo Avete il dovere Non vi potete Fermare Allora noi diciamo Le strade Che vanno prese In considerazione Sono Una famosa Bretella Che è stata aperta In qualche anno Addietro E che per Incuria del Comune È venuta meno Ed è stata Rinchiusa Di nuovo Perché Coloro i quali Avevano prestato Il suolo Per creare Questa bretella Che da Sant'Ignazio Di Lerola Consentiva A coloro i quali Dovevano andare In miei annelli Cioè verso la tangenziale Di non immettersi Su Cappella De Cangiani È stata chiusa Perché Perché c'è Uno scontro Ancora una volta Parliamo di scontri Tra l'amministrazione Comunale In carica E i gesuiti Che sono Coloro i quali Avevano dato Il suolo Per creare La bretella Di marcia Per l'immissione Non più in Cappella Cangiani Del flusso di traffico Proveniente Dalla zona Camaldoli E quindi andare Direttamente Verso la tangenziale In via Iannelli Questa è una Delle bretelle Ma ce n'è un'altra Che è Quella bretella Che potrebbe Consentire Da Sant'Ignazio Di Loiola Di poter andare Senza passare Per Cappella Per Cappella Cangiani Su via Quagliariello E quindi Consentire Di A un flusso Di traffico Notevole Di non dover Girare Su via Leonardo Bianco E quindi Mettersi Sulla rotonda Sono fatti Tecnici Che se considerati Possono risolvere Un problema Vitale Per lo snodo Di traffico Di Cappella Dei Cangiani E poi Amici Pensionati E pensionate Dalle immagini Io vi ho fatto vedere Alcune cose E vi potete Vi potete Rendere conto Attraverso La trasmissione Che andrà in onda Tutti i giorni A partire da venerdì Venerdì Alle 15 Alle 19 E alle 23 E 30 Ecco Potrete vedere Le immagini Di quanto Io ho raccontato Lo dico anche A coloro I quali mi stanno seguendo Sul video Che sta andando in onda In diretta Ecco Voi collegatevi Su Campania Felix Ecco Da venerdì in poi Alle ore 15 Sul canale 210 613 O 609 4 Ecco Alle 15 Alle 19 O alle 23 E 30 E potrete vedere Le immagini Delle cose Che ci siamo detti Un'ultima cosa Ecco Che è altrettanto Importante Cioè Noi ci troviamo E le immagini Ve le dimostreranno In un contesto Dove c'è un edificio Edificio scolastico Completato Completato Da cinque anni Circa Che non è stato Dato In uso In fruizione Alla popolazione Un edificio scolastico Che è nato Al posto Al posto Dove l'esigenza Perché non poter Alle 12 Alle 12 e 30 Per parlare di queste cose Noi diciamo Perché non mettere Un centro sociale Per anziani In quei locali Perché non creare Un luogo Dove si possa Raccogliere La capacità Di fare Artigianato Ecco Mettendo insieme Le realtà Delle zone Sovrastanti Il rione alto Sant'Ignazio Camaldoli Anche lato Chiaiano E Marano Questo abbiamo voluto dire Noi questa mattina Ecco In questo video registrato Che andrà in onda Lo ripeto Venerdì Sabato E domenica Con gli orari 15-19 23 e 30 Sull'emittente Che benemeritamente Ci dà la possibilità Di dare voce Alle esigenze Dei cittadini Lo abbiamo fatto Oggi Con questo video Per Cappella dei Cangiani Per una popolazione Che è quella Del rione alto Della zona Sant'Ignazio Di Loiola Della zona Ecco Santa Croce Della zona Camaldoli Via Orsolona Iguantai Nazaret Eguantai Ed anche la zona Di Camaldolilli Io vi invito Domenica mattina A venire Presso La parrocchia Di Cappella dei Canciani Sul marciapiede Di fronte Alla parrocchia stessa Dove abbiamo deciso Di metterci Con il nostro Banchetto E con Le nostre bandiere Ecco Per colloquiare Con noi Per confrontarci Su quello Che abbiamo detto In questo video Ma soprattutto Sulle opinioni Che avete voi Cittadini Della zona Per la soluzione Del problema Atavico Che interessa Cappella dei Canciani E zone Limitrofe Grazie per l'ascolto E ci incontreremo A breve Con altre Iniziative Iniziative Superpensioni Ladri di Stato E stupratori Il grasso ventre Dei commentatori Diete politici Evasori legalizzate Per anche più Evasori legalizzati E ci incontreremo E ci incontreremo